Eccoci qui al Botte con la calzatura a mese di maggio, siamo aperti tutte le domeniche di maggio, venite come sempre numerosi, siamo nel reparto da uomo, vorrei farvi vedere 5-6 paio, tanto mi fa lo sconto, guardavo, vi volevo far vedere qualcosa da uomo, Federico già l'ho visto con la coda dell'occhio, stava scegliendosi dei prodotti, delle scarpe per sé, dicendo che poi faccio lo sconto, ma lo sconto noi lo facciamo a tutti, a tutti i nostri clienti, perché qui troverete al Botte con la calzatura tanta scelta, qualità, servizio e prezzi bassi, specialmente da uomo, da uomo abbiamo tutte le aziende più giuste per i dei vostri desideri, abbiamo l'agri-sport, l'i-step, abbiamo la i-ge-co, abbiamo la lamberge, abbiamo la nero giardini, abbiamo la geox, abbiamo le scarpe giuste insomma per chi vuole trovare un prodotto giusto e valido a un prezzo veramente conveniente e noi ci mettiamo nel nostro perché vi facciamo veramente risparmiare o direttamente sulla scatola o alla cassa, quindi venite sicuri di trovare l'assortimento anche nel reparto da uomo, specialmente nel reparto da uomo, l'assortimento e il prezzo basso, il risparmio. Facciamone vedere qualcosa, ma non per te, un po' per tutti, la i-ge-co, Federico, la i-ge-co, i-ge-co in vari modelli molto sportivi o più classici, ce ne sono veramente tanti di prodotti anche da uomo, poi l'abbiamo da donna, l'abbiamo anche da bambino nella linea Primigi, siamo il concessionario i-ge-co più assortito che trovate nella nostra zona in Toscana, quindi, tanti modelli, più sportivi, con memory, senza memory, scarpe, in istituto italiane e ben fatte, molto molto comode, come dicono nello sport, leggere, sportive e veramente confortevoli. Abbiamo vari modelli, Federico, prendi neanche quello sportivo lassù, questo qui, ultra flessibile, con la tomaia fatta tipo calza, comodissimo, fagli vedere la flessibilità, perché poi le scarpe si mettono a piedi, i piedi non sono così, i piedi fanno così, così, così fanno, quindi si muovono, foderate di pelle, ci state bene, solito estraibile, per chi adopere il proprio plantario, per chi lo vuole fare asciugare la sera col sudore, veramente uno, pure più classiche, più elegantine, un assortimento eccezionale anche di i-ge-co e questi sono solo alcuni esempi. Poi abbiamo, che ne so, le Grisport, facciamole vedere qualcosa delle Grisport, Federico. Grisport abbiamo dalla linea, con il tuolettino in memory, comodissima, con il gel, chiamamolo così, sopra il quale il vostro piede fa subito la forma, comodissime. Quello del materasso. Sì, sì, tipo quelle memory, quella tecnologia lì, comodissime e anche belle da vedersi, sportive, a prezzi veramente bomba. Bassissime. Perché anche qui c'è un'offerta del 20%, lo sconto del 20%, ma dovete venire al bottegone per trovare l'assortimento più il risparmio. Se volete trovare solo il risparmio andate là dove c'è una scarpa sola. Qui c'è l'assortimento, perché qui solo di linea attiva abbiamo 12 modelli. Eh sì, questo con lo strappo, facevo vedere. Andate qua, comodo perché non si può allacciare. Ma questo perché si chiama Actil? Perché ha gli ammortizzanti nella suola, attivano, attivano la comodità, attivano la comodità, vedete, vedete, qui c'è la suola, il disegno della suola sezionata, scoppiata come si dice, esplosa, con gli ammortizzanti che attivano la comodità. Provare per credere, è proprio il caso di dirlo. Tantissimi modelli, da come ha fatto vedere Federico con lo strappo, a quelli con lacci, tessuti vari, eccetera. Poi, abbandonando centinaia di modelli della Grisport, facciamoli vedere qualcosa della linea Nicola Benson, le scarpe eleganti però per i giovani, costano innanzitutto un prezzo giusto, noi ci mettiamo nel nostro perché anche qui c'è lo sconto del 20%, su tutto l'assortimento, guardate quante ne abbiamo, ci sono più classiche, più eleganti, più giovanili, innanzitutto costano poco, sono comode, ma sono anche belle, belle, perché queste scarpe sono belle, sono belle e spendete poco, è troppo facile andare a comprare un prodotto bello a 500 euro, a 250 euro, qui vi facciamo spendere meno di 100 euro, meno di 80 euro, addirittura in certi casi meno di 70 euro e comprate una scarpa italiana, sana, di pelle, comoda e bella, poi ce n'è più, altrimenti ragazzi ci arrendiamo, qui vi facciamo calzare bene, belli e comodi e non vi da noi a essere invitati dall'amico al matrimonio perché non spendete un capitale e però fate la figura, forme giuste, molto modaiole, le abbiamo veramente di tanti tipi, colorate, blu, carta a zucchero, nere, azzurre, classiche, di vernice, con la sola di cuoio, con le sole di gomma antiscivolo, blu, classiche, anche per lo sposo, ne abbiamo veramente tante, tanti di prodotti anche nelle scarpe eleganti, lo sapete cosa non abbiamo tanto di tempo, purtroppo il tempo è finito, venite a trovarci anche in maggio, siamo aperti la domenica, fra l'altro troverete lo sconto del 20% sulle scarpe chiuse da bambino, i giochi gonfiamili e l'overboard di altre azioni, quindi venite con bambini a divertirvi, venite grandi a risparmiare, ciao!